Ciao, in questo video di ginnastica posturale parliamo di iperlordosi. L'iperlordosi può essere logicamente un'accentuazione delle curve del tratto cervicale o del tratto lombare. In questo caso queste lordosi possono andare in aumento della loro curvatura fisiologica andando a creare un'alterazione quindi posturale del soggetto. Ora vedremo degli esercizi per l'iperlordosi lombare. Questa può essere dovuta ad un aumento della tensione di alcuni muscoli che vanno ad agire direttamente sulla colonna come per esempio tensione a livello del muscolo iliopsoas, tensione a livello della muscolatura profonda come il diaframma, diaframma toracico o tensione addirittura a livello dei muscoli lombari. In questo caso questa tensione muscolare deve essere migliorata attraverso una sequenza di esercizi che vanno dalla mobilità segmentale del distretto lombare al miglioramento e rinforzo della stabilità di tutto quanto il tronco. Un'altra cosa importante sarà quella di andare a migliorare il rinforzo muscolare dei muscoli che vanno a ridurre questo aumento della lordosi lombare. Quindi in questo caso vedremo questa sequenza di esercizi per andare a migliorare questa condizione. Ci portiamo in posizione supina, quindi distesi a terra, con la schiena in appoggio, bene, le braccia lungo i fianchi, le gambe flesse. Sfrutteremo sempre la respirazione come principale movimento per la colonna. Durante la fase di inspirazione manteniamo la posizione rilassata. Nella fase di espirazione sfrutteremo l'allungamento diaframmatico per andare a ridurre quella tensione in trazione della colonna lombare verso l'alto, quindi in aumento della curva lombare, correlata però sempre all'attivazione muscolare dei muscoli che bloccano e riducono l'aumento della curva, quindi il muscolo trasverso dell'addome, il muscolo retto addominale e i muscoli glutei, che sono muscoli che retrovertono il bacino e vanno a bloccare questo aumento in attivazione maggiore dell'iperlordosi. Associata alla respirazione poi abbineremo il movimento di solamente inizialmente il tratto lombare, quindi buttando fuori aria sgonfiamo il torace, sgonfiamo l'addome, portiamo leggermente più a ridurre in basso la curva del tratto lombare, in rotazione il bacino in retroversione, dopodiché inseriremo anche il lavoro delle gambe, solleveremo una gamba e poi l'altra portando le ginocchia verso il petto. Questo aumenterà ancora di più la riduzione della curva a livello lombare, migliorando anche la mobilità a livello della zona lombopelvica. Ritorniamo lentamente una gamba alla volta a terra e rieseguiamo nuovamente il movimento. Prendiamo aria, rilassiamo, buttando fuori aria, sgonfiamo il torace, l'addome, l'ombelicolo, li portiamo in basso, portiamo in retroversione il bacino, poi sale una gamba, sale l'altra e portiamo entrambe le ginocchia verso il petto. Bene. Lentamente nel riprendere aria si ritorna una gamba alla volta in appoggio. Questo è il primo esercizio di mobilità segmentale. Vediamo il secondo esercizio di mobilità globale. Quindi ci giriamo lateralmente in posizione di quadrupedia, con le mani a terra a larghezza delle spalle, bene, le ginocchia a larghezza del bacino, sotto le anche. Da questa posizione dobbiamo andare a migliorare la condizione di eccesso di tensione della muscolatura posteriore e andare a rinforzare la muscolatura addominale. In questo caso, nella fase di espirazione, attiveremo maggiormente la muscolatura addominale, riportando il più possibile l'ombelico all'interno dell'addome, portando un ginocchio verso il petto nella fase finale dell'espirazione, aumentando così la tensione in allungamento della muscolatura lombare, retroversione del bacino abbinata al movimento, e quindi favoriremo un'attivazione maggiore dei muscoli che limitano l'iperlordosi. Rivediamo nuovamente il movimento da capo. Prendiamo aria, manteniamo rilassati, nel buttare fuori aria, sgonfiamo il torace, l'addome, l'ombelico, in retroversione del bacino, attiviamo i glutei, portiamo un ginocchio a fine movimento verso il petto. Alterniamo il lavoro di una gamba e dell'altra ad ogni espirazione. E qui lo vediamo dall'altro lato. Molto bene. Dobbiamo avvertire proprio questo movimento sulla zona lombare. Bene. Un altro esercizio che possiamo eseguire successivamente è quello dell'allungamento della catena posteriore. La nostra catena cinetica posteriore, portandola in allungamento, andrà a ridurre quello che è l'eccesso di tensione nella muscolatura posteriore, quindi quadrato dei lombi, muscoli iliocostali, quindi tutti quei muscoli che posteriormente in maggiore attivazione vanno a favorire l'iperlordosi, ma soprattutto, essendo attivata questa fase di allungamento, in fase di espirazione, favorirà l'allungamento di tutti quanti quelli che sono i muscoli interni del corpo, come il diaframma toracico, che va a ridurre la tensione in trazione anteriore sulla colonna. Quindi, in fase di espirazione, faremo il lavoro di massimo allungamento di questa catena. Ci portiamo distesi i supini. Posizione iniziale ci poniamo con le mani all'altezza delle orecchie, gomiti divaricati, gambe flesse, piedi in appoggio. Da questa posizione prendiamo aria, manteniamo. La sequenza di lavoro parte dal tratto cervicale e finisce con il lavoro delle gambe fino al piede. Nel buttare fuori aria inizia il movimento, prendo la bocca, sgonfio il torace e l'addome, portando il mento verso il basso in retro, pulsione del mento. Dopodiché, porto sulla testa, chiudo i gomiti al centro, sgonfio il torace e l'addome, ancora porto un ginocchio in alto, l'altro, unisco le ginocchia e i talloni e distendo lentamente le gambe verso il soffitto, portando anche le punte dei piedi verso il basso, in questo modo da portare in massima tensione tutta quanta la catena posteriore. Nel riprendere aria, lentamente flettiamo le gambe, ritorniamo lentamente una gamba alla volta in appoggio a terra fino al tratto cervicale, divaricando nuovamente le braccia. In questo esercizio, una cosa molto importante alla quale bisogna stare attenti, è la posizione delle gambe. Durante la fase finale di lavoro, una volta aver portato le gambe in alto, le ginocchia non devono, durante la distensione delle stesse, allontanarsi dalla linea verticale con le anche. Quindi manteniamo questa posizione di verticalità, in maniera tale da non allontanarle con una tenuta maggiore di questa caduta delle gambe a favore del muscolo iliopsoas. Qui lo portiamo in massimo accorciamento e da questa posizione sarà meno attivo nella tenuta, in maniera tale da non favorire ulteriormente un aumento della lordosi lombare. Quindi, importantissimo durante tutta quanta la tenuta in allungamento, attivare la muscolatura dell'addome in spinta le gambe verso l'alto e alla fine della spinta in alto le punte dei piedi scenderanno in basso e in rotazione laterale, favorendo l'attivazione dei muscoli glutei, anche loro retroversori del bacino. Bene, flettiamo le gambe e lentamente ritorniamo un piede alla volta in appoggio. Bene, ritorniamo lentamente su e vediamo lo step successivo. Una volta rieducato il movimento lungo le catene fasciali, andiamo a rinforzare la stabilità del core. Molto importante il corsetto addominale nella stabilizzazione della zona lombare, quindi per evitare che aumenti ulteriormente la lordosi. Per fare questo utilizziamo una fitball e sfruttiamo il movimento dinamico del plank. Quindi da questa posizione saliamo con una gamba alla volta sopra la fitball. bene, le braccia ben distese e da qui. In fase di espirazione portiamo le ginocchia in alto verso il petto. Nel riprendere aria ritorniamo in posizione centrale. Importante nella posizione centrale evitare di scendere ulteriormente sotto il livello delle anche con l'addome. Quindi in questo caso talloni anche spalle sulla stessa linea forte l'addome in tenuta. Ritorniamo su buttando fuori aria flettiamo bene, inspirando ritorniamo al centro. Bene, scendiamo una gamba alla volta in avanti e ritorniamo in quadrupedia. Molto bene. Abbiamo visto in questa sequenza di esercizi siccome andare a migliorare una condizione di iperlordosi in tutte quante quelle persone che presentano questa alterazione posturale sempre andando a valutare inizialmente quale è la causa che ha creato questa alterazione posturale. Anche se con questa sequenza di esercizi affrontiamo il discorso dell'alterazione posturale sul tratto lombare in maniera globale. Vi invito ad utilizzare questa sequenza di esercizi. Ti invito ad approfondire queste e molte altre informazioni sui canali ufficiali ginnasticaposturale.com istitutoats.com dove troverai il libro il videocorso e il corso di formazione per la certificazione ufficiale ginnastica posturale.